Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno vediamo oggi chi è il vincitore della ruota della fortuna e vince Ale facciamo subito il G ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono Ciechenato e oggi siamo in unissimo video ovviamente per parlare delle nuove novità che sono uscite proprio ieri dalla patch 21.50 che ha portato veramente un sacco di novità nuove eventi ricompense gratis a go go perché ne abbiamo un sacco che poi adesso ne parliamo oggi di qualcuna ma in futuro ne parleremo altro per questo iscriviti per non perdertele con la campanellina lascia un bel like ti ricordo il mio canale Telegram in descrizione per il mio senante prima vi avviso quando ci sono video o live e detto questo direi che possiamo subitissimo incominciare iniziamo innanzitutto dalle ricompense gratis ragazzi perché ci sono delle ricompense che potete già ottenere oggi come possiamo vedere se vi recate infatti nella sezione incarichi incarichi gioca a modo tuo come possiamo vedere sono sfide che dovete mi sembra fare in creativa infatti come possiamo vedere ci sono i vari obiettivi completo obiettivi a croce via arcobaleno insomma tutto inerente all'evento anche un po' arcobaleno sembrerebbe che però sì è un evento arcobaleno ma c'è anche un mi sembra una parte che deve ancora arrivare di ricompense quindi hanno rilasciato insomma la prima parte dell'evento arcobaleno ma in teoria ce ne dovrebbe essere un'altra parte che parleremo magari in un altro video comunque la prima parte è disponibile e ci sono ben otto ricompense che potete ottenere come possiamo vedere sono queste le potete benissimo vedere anche in game schermati di caricamento il backpack del dello skateboard abbiamo una copertura armi abbiamo un piccone addirittura gratis insomma sono un totale quindi di otto ricompense che potete ottenere insomma tramite la creativa ovviamente quali sono però ovviamente le mappe creative ragazzi basta che andate insomma su seleziona modalità scorretti in giù e gioca a modo tuo c'è proprio scritto come possiamo vedere tutte queste varie mappe della creativa serviranno per ovviamente ottenere tutte e quante le ricompense che vi ho appena fatto vedere per l'appunto pochissimi secondi fa con una durata totale ragazzi come possiamo leggere di 6 giorni e 3 ore dal momento ovviamente che sto registrando quindi avete tutto l'arco della settimana per completarle vi ricordo che ovviamente sono limitate per i 6 giorni quindi se insomma non le ho riscattate in questo tempo non potrete ovviamente in teoria più riscattarle vi ricordo poi che domani ragazzi sarà disponibile la nuova crew di Fortnite che tra le altre cose potete già vedere in game pacchetto crew di settembre come possiamo vedere abbiamo una a parere mio poi non so voi ma una delle skin più belle probabilmente che hanno mai rilasciato in una crew di Fortnite non mi ricordo come si vede ah ok ecco fatto questa è la skin che come possiamo vedere ha delle varianti con ovviamente il cambio della maschera abbiamo il piccone che non è neanche male questo molto piccolo molto carino copertura army che se non sbaglio c'ha pure mi sembra dei sti ah è reattiva giusto cambia il simbolo insomma e poi abbiamo pure un pacchetto musicale tutto questo disponibile da domani primo settembre ovviamente per gli abbonati alla crew di Fortnite poi altra novità molto importante arena late game ragazzi fixata finalmente come possiamo vedere abbiamo pure la feed in gioco potete tranquillamente giocarla ieri era tipo bugatissima quindi ovviamente lo sapete l'hanno rimossa e l'hanno riaggiunta adesso quindi dovrebbe essere tutto a posto e potete tranquillamente giocarla nelle varie arena fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo ritorno se vi è piaciuto o meno qua sotto nei commenti passiamo però adesso ragazzi ad altre novità che riguardano come possiamo vedere il nuovo starter pack della nuova stagione numero 4 in arrivo il 18 settembre ovviamente la nuova stagione lo starter pack sarà disponibile qualche settimana dopo come ogni stagione altronde e come possiamo vedere abbiamo un riferimento molto interessante in questa skin infatti nella maglia della skin c'è proprio scritto dead game che ovviamente tradotto insomma in italiano significa gioco morto ed è diciamo una presa in giro per tutti quelli che insomma sui vari social dicono che fortnite è un gioco morto di conseguenza Epic per trollare un po' insomma ha messo questa skin che ovviamente è per ironizzare il tutto e comunque sarà lo starter pack della nuova stagione incluso ovviamente Piccone e Backpack che abbiamo già visto nel video ieri altra novità molto importante il ritorno di uno dei bundle più rari di fortnite perché ragazzi questo bundle ve lo posso assicurare perché io ce l'ho e l'avevo acquistato nella lontana stagione 8 mi sembra del primo capitolo da quella stagione in poi non è mai più uscito quindi si tratta in realtà uno dei bundle che tra virgolette possiamo chiamarli più rari del negozio oggetti perché non usciva da tantissimo tempo potrete ragazzi ritrovarlo in game cioè sullo shop ovviamente di fortnite a circa 20 euro dovrebbe costare poi integrati c'è pure mi sembra la missione di V-Bucks che se non erro sono 2000 o 1500 non ricordo adesso bene però poi abbiamo ovviamente anche a copertura armi abbiamo il piccone e dovrebbe questo pacchetto arrivare in occasione della settimana selvaggia del fuoco che arriverà la settimana prossima quindi ritorneranno tutte le armi inerenti insomma al fuoco e ritornerà addirittura anche questo bundle che non tornava da più di 3 anni quindi veramente tantissimo vi mostro anche le armi che dovrebbero tornare sono un arco e ovviamente un pompa parliamo poi anche di questo diciamo evento che potrebbe essere in arrivo parliamo di un evento magari dedicato proprio alla cantante che conoscerete sicuramente tutti Lady Gaga infatti ragazzi potrebbe esserci una collaborazione una sorta comunque di evento insieme a Lady Gaga che non sappiamo se magari potrebbe riferirsi a un concerto oppure semplicemente una collaborazione con il rilascio della sua emote nello shop fatto sta che come possiamo vedere sapete benissimo che in arrivo l'evento arcobaleno abbiamo visto già la prima parte che abbiamo accennato a inizio video poi ce ne sarà una seconda parte in teoria verso inizio settembre nella prima o seconda settimana avremo un'altra parte di evento dedicato sempre a questo evento arcobaleno eccetera abbiamo delle immagini qui come possiamo vedere che sembrerebbero essere molto simile alle posizioni insomma che sono quelli di Lady Gaga quindi molto probabilmente potremmo chi lo sa magari avere una collaborazione con Lady Gaga finalmente che insomma non sappiamo ancora che tipo di collaborazione se nello shop solo oppure ci sarà un concerto però qualcosa sicuramente arriverà detto questo ragazzi queste erano alcune news uscite dalla patch 21.50 ne vedremo tantissime altre ovviamente nei prossimi giorni quindi attiva la campanellina iscriviti lascia un bel like e noi ci vediamo comunque domani sempre qui alle ore 13 bella e noi ci vediamo